Il mio nome è un nome che supera tutte le rigi della fisica C'è post carbonara, matriciana, gelati Resiste! Evviva! Ciao ragazzi, vi volevo dire che domenica saremo chiusi Sabato invece saremo aperti Quindi se avete intenzione di venire a Caritas Shop nel weekend Venite sabato, sia la mattina che pomeriggio siamo aperti Mentre la domenica siamo chiusi I giorni di apertura sono dalle 9 alle 13 e 30 E dalle 16 e 30 alle 20 e 30 In Italia 1 Tutti i giorni qua a Caritas Shop in via Santa Maria Sabato aperti, domenica chiusi Ciao Nei camerini di Besca Ragazzi spiegatemi perché i camerini di Besca dei negozi ingrassano sempre Comunque ho provato 10.000 vestitini E su 10.000 vestitini questo è mio Questo pantalancino e questo top sono miei E... Ah, i specchi di Nenzi Che stai provando nel camerino? Sto dicendo che i specchi nei camerini dei negozi ingrassano Allora guarda, io mi sono provato i vestitini e veniva da piangere Comunque andate a vedere anche il vlog di Nenzi dove ci sono i suoi scleri Un outfit da balena Esatto E comunque solo due mi vanno bene Poi ve li faccio vedere Uno nero e uno blu E gli altri non Comunque mi piace questo mio look Questo è bello, ho avuto voglia di truccare E sono messa questi orecchini che mi ha fatto con mia mamma E poi una tinta e un po' di ritucco Bello bello Molto estivo Summer Ciao Shopping Ciao Sesso la maglietta Sì, lo stesso colore Posso farlo apposta Che bello, ho fatto un po' di shopping Adesso andiamo da H&M Pessimo Ragazzi, nei camerini di H&M H&M Giusto un po' di vestitini ho da provare Ho trovato dei vestitini troppo carini Spero che mi vadano bene Tutti questi freschi freschi Per metterli anche quando vado a lavoro In negozio A Carita Shop Mi incontrerete con qualcuno di vestiti Questi vestiti addosso? Chissà Se mi piaceranno Comunque sono tutti uno più bello dell'altro Tutti uguali Perché a me piacciono questi modelli così Se non l'avete capito Corti E spero che mi vadano bene Poi c'è anche questo Che è la chicca La ceggina sulla torta Proviamo Sii Ragazzi guardate qua Mamma mia Un mare di cose Ho comprato Anche la Nancy Abbiamo svaliggiato Il centro commerciale Sono felicissima nel video di shopping Si vedete Nel video di shopping E' resuscitata per farsi pubblicità al video Non ce la faccio Comunque ragazzi se volete vedere cosa abbiamo comprato Perché anche la Nancy Piano 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 ha comprato un sacco di cose carine Lasciate tanti like a questo video E fra qualche giorno troverete Due video Uno della Carlita Uno della Nancy sul suo canale Quindi quando troverete il mio video Sappiate che c'è anche quello di Nancy Perché le faremo nello stesso giorno E così faremo la sfida Chi ha comprato le cose più belle? Ovviamente io Ciao mamma Anche Pupi ha fatto il shopping Anche Pupi Sì 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 Ragazze vi volevo dire Vabbè c'è traffico Quindi io mi metto a vloggare In auto E guardate la tinta Cioè incredibile ragazzi Cioè ho mangiato Ho bevuto Ce l'ho da non so quante ore Praticamente sono le sette E ciò non si toglie E non si toglie niente Baci bacini bacetti Nulla Cioè è perfetta Ma neanche sbavata E dovete dire che io sono pure Imbranata a metterla L'ho messa anche così Alla Carlita Insomma quindi è una schifezza L'adoro Cioè Quindi ragazze Venite nel mio negozio A quarto In via Santa Maria Dove troverete anche queste tinte Perché come non prendere queste tinte Cioè Veramente Venuti con i prodotti Make up top Se uscite dovete baciare qualcuno E vi ho lui Il vostro lui Il vostro lui Si stupirà Perché non si sporcherà le labbra Che bello Ma poi la cosa bella È che ti scordi di averlo È talmente confortevole Che non lo senti più Siamo venuti a fare la spesa Ciao Metro Non la giriamo Perché È brutto Tutti mi hanno fatto una foto Dottissima Trava da metro Comunque vabbè Ma non facciamo Ci da metro Perché non ci crega nulla Noi paghiamo Quando veniamo qua Non è che ci offrono Qualcunzio Se ci vogliono fare lo sconto Non ci offrono Centimetri Che chiede Trava da centimetri Che stupido Comunque Dobbiamo fare una spesa Grandissima Date il carrello Grande Cioè Da 1000-1500 Addirittura Noi ci copriamo Tutto a metro Vabbè Però c'è la roba buona Invece Nemo Sì Sì Aiuto Aiuto Questo è l'ultimo gioco Aiuto Idiota Eee Mi piace Sto calendo E vai a dirvi qua Eh Qua 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 Voi stai a posto Ma non dici che ti ho preso in posto Eh Ho preso posto in datumetro Ho preso posto in datumetro Guardate Eee Eee Anzitava la roba Aiutami a metterlo Che fa freddo Ma mi fa schifo Mettere il suo giubbino Lo vorrei personalizzato Carlita a metro Carlita a metro Andiamo Carlita a centro Entriamo nel frigorifero Yeee Siamo entrati Siamo entrati Senza pagare Ma non è bene Come la canzone di Jax e Fedez Senza pagare Voglio trovare qualcosa che spremi i limoni Capito? Come ce l'ha Aurelio Ammergellina Quello che... Eh c'è una pubblicità pure Aurelio Ma Roma Ma pagate Mi faccio pubblicità a tutti Ma nessuno può fare Ma com'è stupato? Non sono Faccio pubblicità Stupido a un certo punto Vabbè Comunque Io pubblicizzo le cose buone Ah Questa è per Nuzia Palatine fritte per Nuzia Pennezzi Questa è quando Ti spurti Guarda se la metto a casa Palatine Palatine fritte No ma veramente Ma qualcosa dove può stare amore? Guarda 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 Davvero Non scherzare Che mi illusi No amore Perché te ne metti l'amore? Vabbè 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 Davvero L'hai trovato Non c'è credo Però Ho questo No Che bello Che bellissimo Ma questo qua Ma questo non c'è sto cuo Io voglio quello che... Eh Tu devi prendere questo Ma quanto costa? Non c'ho qui 285 Oddio Oddio C'è una cosa Io metto 5 euro E ti metti 280 No ma c'è una cosa Metro me lo vuoi regalare Metro regalo No ma che costa così tanto amore? Si che felicità L'hiamo trovato Questo è Facciamolo vedere Fai vedere come funziona Fai vedere come funziona Allora ragazzi Questo è un Dario Auro Ragazzi Allora siete pronti? Quando ne volete? Limonate Eh una limonata Bittiere Si fa anche con il melograno Ah te la potete proprio A baggarelle Bittiere Qua ne vuoi? Una Madonna mia 10 euro No 10 euro Perché sta l'oro Ma comunque questo qua A parte scherzi Costa 79,90 Per questo lo compriamo Costa di meno Prendiamo? Ma secondo me funziona Ci dovrebbe fare una prova Eh ho capito Però Ci va il melograno Questo è melograno Questo è melograno Questo è melograno Ah Accendiamolo Sì evviva Accendiamolo Compriamolo Metro Regalaci Oh bene Aspettiamolo Metro sta facendo la pubblicità Eh regalaci Un po' di sconto Metro Qualità Convenienza E garanzia Un po' di sconto Un po' di sconto Andiamo con 8000 bottiglie di acqua Vitasnella Sempre che paghiamo noi Vitasnella pagaci Molto Che cacchio Un bicchiere puro Un po' di sconto Un po' di sconto Un po' di sconto Per regalarli a mio padre Stare la linea fino a qui Paguito che state facendo? Ma perché ce l'hai la nida? Ma che cosa? Scusate Ma è arrivato Stanno tagliando i saponi Eh Si è fatto orario di chiudere A Calita Shop Oggi sono venute tantissime persone È vero? Sì è vero Vi ringraziamo tutti Perché sono venuti numerosissimi Perché noi abbiamo l'aria condizionata E siamo freschi Qua a quarto In provincia di Napoli Veniteci a trovare Pachito 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 Suave suavecito C'è anche Pupi Pupita Pupita Suave suavecita Hanno fatto 40 anni di matrimonio Hanno fatto Scusate Quanto avete fatto? Meno 10 Il vostro anniversario Ieri è stato Fate tanti auguri A Pachito Meno 10 Hanno fatto quanti anni? Meno 10 E' che gli ho scritto nel biglietto Tanti auguri Perché questo giorno speciale Avete colonato il vostro sogno Da questo rapporto sono nati due gioielli preziosi Uno in particolare Hanno fatto Andiamo anche un saluto a Nancy Comunque vogliamo informarvi che cosa Pachito Vediamo se adesso ci riesci Che sabato saremo aperti E domenica Arriviamo Sabato saremo aperti No io lo devo dire Dimmelo prima Sabato saremo aperti e domenica saremo chiusi Vai Sabato saremo aperti E domenica saremo chiusi Quindi se volete venire a Caritas Shop Nel weekend Venite sabato Perché domenica saremo chiusi Sabato dalle 9 alle 13 e 30 E dalle 16 e 30 alle 20 e 30 Vi aspettiamo qua a Caritas Shop Ciao Farò stare la prima comunione La prima comunione No 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 Ragazzi ho fatto una grande insalatuna Come quella Che vi ho caricato sul mio secondo canale il video Ma la cosa più bella è questa Mentre io faccio le foto Lui ha già finito Yeah Mentre lei pensa io agisco Amore La storia della nostra vita Io foto e lui è finito Amore No complimenti Dammi 5 Volevo vedere cosa ho comprato Sì Sì Ho fatto tanto E te l'ho aperto qua Guarda vuole vedere Guarda amore Quante busse ho comprato Anche delle cose per te Adesso ti faccio vedere tutte le belle cose Però spengo la videocamera Perché poi facciamo i video haul Vero amore? Anzi se volete Lo facciamo assieme io e mio amore Vuoi fare tu? Possiamo fare il video haul assieme io e te Vuoi fare? Ha haul Sì dove facciamo vedere le cose Ok Indiano Facciamo vedere le cose che abbiamo comprato sia masche che femmine indossate Vuoi fare amore? Sì Lasciate tanti like che volete vedere i video Adesso faccio vedere le cose del mio amore e gioco con questo tuo mio amore Ciao ragazzi Sì Ciao Allora See ya See ya See ya See ya